Ciao dolcette e benvenute in questo nuovo episodio di Dolce Flirt all'Università Castiel. Siamo ancora sul capitolo 2 e io ovviamente non vedo l'ora di andare avanti con la storia. Nello scorso episodio abbiamo rincontrato tra l'altro Ambra e noi eravamo tipo sconvolte dal suo cambiamento, però vabbè, piano piano ci abitueremo, quindi andiamo subito avanti. Allora, devo andare, un attimo che non lo ricordo, alla lezione con la professoressa Paltri, sì, sì, è vero. Dopo che abbiamo mangiato alla mensa con Shani, ovviamente io non dovino mai la porta. Non conosco quasi nessuna in classe. Non siate sorpresi, qui tutti i corsi sono mischiati come l'ho già spiegato durante la riunione di informazione. Mi sono seduta vicino ad uno studente che non avevo mai visto prima. Ok, il corso durerà meno del previsto. Guarda nervosamente l'orologio che ha al polso. Vi spiegherò più nel dettaglio il programma di quest'anno. Qualcuno ha già sentito parlare di sviluppo personale? Un ragazzo seduto ai primi banchi ha alzato la mano. Sì? Oh, ed ecco qui Morgan! È un corso che permette di abbordare soggetti d'attualità o semplicemente la vita nel campus in tutta libertà. È lui! Il colpo di fulmine di Alexi! Per fortuna che Rosa non è qui. Avrebbe sicuramente fatto di tutto per andargli a parlare alla fine del corso. Esatto, in tutta libertà e soprattutto in forma anonima. In forma anonima? Com'è possibile, visto e considerato che siamo tutti seduti uno di fronte all'altro? Vedo delle facce un po' perplesse. Per spiegarvi meglio, c'è una piccola scatola blu che lascerò qui durante ogni corso. Vorrei che ci mettesse dentro sistematicamente un foglio. Può essere un foglio bianco o un'idea di un argomento che vorreste trattare durante il corso. Capito! Visto che ogni volta ognuno inserirà nella scatola un foglio, non potremmo sapere a chi apparterranno i diversi soggetti che tratteremo. Ok! Per rompere il ghiaccio, chiederei a ciascuno di voi di proporre un argomento d'alta voce. Faremo così solo per oggi, non preoccupatevi. Ho cominciato a sudare freddo? Odio sentirmi obbligata a partecipare attivamente ad un corso. Gli altri alunni propongono a voce alta gli argomenti, a cominciare dagli studenti seduti ai primi banchi. Un argomento, un argomento, un argomento! Interessante! Adesso tocca a te! Di già! Gli attentati! Qualche mormorio ha percorso la sala. Effettivamente, un ottimo argomento, difficile da abbordare, ma con il quale ci siamo tutti confrontati. Ne parlerò sicuramente durante l'anno. Non so proprio come mi sia venuta in mente questa cosa. La professoressa Paltri ha fatto il giro della classe. Grazie per la vostra partecipazione, spero che abbiate capito il principio. Vi ricordo che questo corso è facoltativo, ma è importante per il vostro benessere personale. Pensateci! Sì, se mi ricordo bene, durante la riunione di informazione c'è anche detto che questo corso aggiungerà dei crediti per la laurea. Seguirò sicuramente qualche lezione durante l'anno. Pensate a mettere un foglio con un argomento nella scatola o scendo. Grazie per la vostra partecipazione e arrivederci alla prossima volta. Ho preso le mie cose e sono uscita dall'aula. Comunque potevamo abbordarlo qui, secondo me Morgan. Alla fine ho finito prima del previsto. Vado a vedere dov'è questa palestra vicino al bar dove siamo andati con Rose ed Alexi. Ne potrei approfittare per fare un po' di sport. Innanzitutto mi serve una tuta. Vado in città a vedere se riesco a trovarne una e poi andrò in palestra. Allora, stradina, bar, parco, dov'è? Qui. E negozi. Wow, sembrerebbe che ci siano dei nuovi negozi in città. Quello di Leite è aperto. Comincerò da lì. La boutique è piena di gente oggi, ma Leite non si vede. Forse è il soggiorno libero. Dai, cerchiamo di trovare la tuta il più velocemente possibile. Vediamo cos'hanno qui. Ma io la volevo in rosa, però vabbè mi accontento. Questa è perfetta. Sono arrivata alla cassa per pagare dopo circa 20 minuti di fila. Ammazza, guadagna bene Leite. Impressionante. Sembrerebbe che gli affari vadano sempre meglio qui. Io lo dirò a Rosa. Ok, non mi resta altro da fare che andare in palestra. E andiamo in questa palestra. Non mi ricordo più come ci andavo. È qui che, quando stavo rientrando venerdì sera, senza Nataniel non so come avrei fatto a cavarvela. Ripassando per quelle stradine, gli schiamazzi di quella sera mi sono tornati in mente. Ho incrociato le braccia contro il petto. E io ho cominciato a camminare più velocemente. Forse è meglio non rientrare troppo tardi dalla palestra. Meglio evitare di ripassare di qua a nottefonda. Ma non possiamo fare un corso di difesa personale. Io lo farei. Ho accelerato il passo per raggiungere la palestra. Sono entrata nell'edificio il più velocemente possibile. Ed entriamo. Benvenuta. Solo la tua intenzione è sudare un po' se nel posto giusto. Non ci credo. Ah sì, qui c'è l'incontro per la prima volta con Kim. Kim! Kairis? Che sorpresa! Mi ha stretta in un abbraccio vigoroso. Ah ah, piano, piano! Non mi sarei mai aspettata di rivederti. Nemmeno io. Sei venuto a fare un salutino ai tuoi amici che hai abbandonato quattro anni fa? Molti mi rimproverano di non avere più data notizie. No, sono ritornata per seguire il mio ultimo anno qui di università. Ah, capisco. E durante tutto questo tempo nemmeno un messaggino per dirci che eri ancora in vita? Ammetto che avrei dovuto contattare tutti. È colpa mia. A volte la vita non ci lascia molta scelta. Eh, risparmianti le scuse. Eravamo tristi quando te ne sei andata. E adesso torni senza neanche avvisare. Non sapevo nemmeno che tu fossi rimasta qui. Se mi avessi contattata l'avresti saputo. Non ha torto. Mi dispiace, Kim, però sono contenta di rivederti. Sì, sì, immagino. Sei anche tu all'università? L'università? No, sai benissimo che lo studio non fa per me. Eppure pensavo che ti fossi rimessa sotto a studiare per la maturità. Mi ricordo delle ripetizioni che le faceva Nathaniel. Sì, ma non avrei mai potuto rovinare i miei anni migliori rinchiudendomi nelle aule dell'università. Allora, vieni anche tu ad allenarti qui? Allenarmi? Sono la coccia di questa sala. Davvero? Ma è fantastico! Sì, sono stata assunta due anni fa. E sono davvero contenta. Non avrei mai potuto passare cinque anni su un banco dell'università. Incredibile! Non ho visto altre palestre in città. Immagino che abbiate molto successo. Sì, è così. È una piccola città. Abbiamo la fortuna di non avere concorrenti. E hai davanti a te una nuova cliente. Sono contenta di saperlo. E a proposito, non è chiacchierando che brucerà le calorie. Mi ha dato uno schiaffetto sulla coscia facendo un sorriso malizioso. Non avrei mai pensato di avere un coach come Kim. Questo lavoro le sta a pennello. Che ci fai io ancora piantata qui? Vedo che è una tuta. Perfetto. Sì, vado Kim. Non chiamarmi Kim. Qui sono il coach. Io la adoro. Vieni, ti faccio vedere da dove cominciare. Kim mi ha fatto fare il giro della sala e mi ha spiegato il funzionamento dei diversi macchinari. Ho cominciato con qualcosa di semplice. Il tapirulane in fondo alla sala. Hai il diritto di utilizzare gli auricolari per accompagnarti con la musica. Però fai attenzione a non lasciarli intorno al collo. C'è già stato un incidente. E non è stata una cosa divertente. Fidati. Ho deglutito pensando all'incidente. Eh, c'ha ragione. E se hai sete, troverai quello di cui hai bisogno all'ingresso. Non esitare a chiedere se hai bisogno di qualcosa. Grazie, Kim. No. Ah, coach. Meglio. Dai, forza. Mi sono messa a correre sul tapirulane ascoltando la playlist Footing. Sono davvero contenta di tornare a fare un po' di sport, che è quello che dovrei fare pure io. La prima settimana è stata davvero lunga. Correndo, ho l'impressione di lasciarmela alle spalle e di riprendere finalmente il controllo. Un suono sordo rimbomba con regolarità alle mie spalle. Girati, girati. Per un attimo ho pensato che provenisse dalla musica che ascolto. Ho tolto gli auricolari. E' un rumore che proviene dal fondo della sala. Chissà chi è. E' Nathaniel. Sta colpendo con forza un punch ball. Non sapevo che facesse box. La faceva già al liceo? Non mi ha ancora vista. Sembra davvero concentrato. Meglio non disturbarlo. Ho fatto qualche passo indietro e mi sono rimessa a fare sport. Oh, ed ecco qui l'illustrazione. Con Nat. Ci incroceremo sicuramente quando avrà finito. Keris. Ops. Sono stata meno discreta di quello che avrei pensato. Non volevo disturbarti. Troppo tardi. E' da tanto che sei qui a spiarmi. E non ti stavo spiando. Stavo ammirando i tuoi muscoli. E' diverso la cosa. Aspetta. E' piacevole vedere qualcuno che si allena in questo modo. Ah, sì? Puoi restare a guardare se lo fai in silenzio. E' da tanto tempo che fai boxa? Ma non credo che sia possibile. Di? Di osservare in silenzio. Ah. Ad ogni modo avevo quasi finito. Dicevi? Mi chiedevo se era da tanto che fai boxa. Sì, da molto. Ho cominciato quando ero al liceo. Dalla fine del liceo mi ci sono messo più seriamente. E' uno sport che permette di scaricare lo stress. E ti insegna anche a difenderti. Hmm, interessante. Sì, insomma, è uno sport comunque violento. Sì, è un po' il principio. Ma quando hai imparato le basi, ti rendi conto che richiede anche molto self-control. Ah, sì? Quanto sei innocente. Che tenera. Tenera? Sì, è la prima cosa che mi è venuta in mente. Dico solo quello che penso. Non scaldarti. Ma non mi sto scaldando. Non ho detto nulla. Ha accennato un sorrisetto prima di riprendere l'allenamento. Ha finito per togliersi i guantoni e posarli in un angolo. Ah, a proposito dell'ultima volta. Sei tornata sana e salva, a quanto vedo. Sì, grazie ancora. La prossima volta lasciati riaccompagnare. Così evito di preoccuparmi. Preoccuparti? Sì. E che sia costretto a seguirti per strada come un ladro. Cosa? Ci ha seguito. E appunto, mi hai seguita? Hai voluto fare la ragazza forte. Ma avevo notato che eri terrorizzata. Ah, non so se considerarla una cosa adorabile o inquietante. Un po' da stalker, eh? Poco poco. Non ricamarci troppo. È solo che non volevo la tua morte sulla coscienza. E vabbè, esagerato pure tu. Simpatica come cosa. Questo sorrisetto lo so che mi sta prendendo in giro. Ciononostante, non ha fatto a meno di seguirmi. Ripenso alle parole di Rosalia, che deve vederlo come qualcuno di poco raccomandabile. Qualcuno che fa delle cose del genere non può essere una persona del tutto cattiva. Dai, devo andare ad occuparmi di Bianca. Hai ancora Bianca? Sì, pensavi che me ne fossi sbarazzato. No, assolutamente no. Pensavo fosse deceduta. Come sta? Scherzo, raga. Ah, di lei ti chiedi come stia. Mentre io ho il diritto soltanto a dell'osservazione sul fatto che sia cambiato. Sei geloso della tua gatta? Forse dovrei... Abiti sempre nello stesso appartamento? Sì, sempre nello stesso posto. Ripenso al motivo per il quale è andato via di casa. Ho sentito lo sguardo di Nathaniel su di me. Stavamo pensando alla stessa cosa. Meglio non parlarne. Non credo che voglia parlare di suo padre, soprattutto con me. Ci siamo appena rincontrati. Non è il momento più opportuno. E quindi? Ti sei iscritta in palestra? Ci sto pensando. Perché? Ti dà fastidio? Al contrario. Potresti essere un ottimo punch ball. Sei davvero adorabile. Oppure potrei insegnarti. Vedremo. Davvero? Ma insomma, venite nella mia palestra per chiacchierare o allenarvi? Scusami, Kim. Sono stato un po' interrotto. Che esagerato! Dovresti fare attenzione a chi fai entrare in palestra. Con tutti i nuovi clienti sono i benvenuti. Però le chiacchiere sono riservate soltanto ai fannulloni. E la prima regola della mia palestra è che non sono ammessi i fannulloni. Sì, scusa. Ci rimettiamo subito a fare sport. Voglio vedervi sudare. Ma avevo comunque finito, Kim. Ci vediamo domani. O ci vediamo stasera? Come sempre. Stasera? Ah sì, qui è quando noi sospettavamo tipo che loro due avessero una storia. Come sempre. Ok, a dopo. Kim gli ha fatto l'occhiolino e gli ha dato un colpetto sulla spalla. Ma che cosa ha? A presto, Keris. Sì, a presto. Non ho avuto il tempo di aggiungere altro. Ha raccolto le sue cose ed è andato via. Passando vicino a Kim le ha accarezzato maliziosamente i capelli. In effetti, tutto faceva pensare a quello. Forse stanno insieme. Non mi ricordo una tale complicità tra loro due al liceo. All'epoca Nathaniel le dava delle ripetizioni e Kim adorava dargli del filo da torcere. Mi ricordo che alla fine dell'anno andavano piuttosto d'accordo, ma non erano certo grandi amici. Che fai l'impollata a guardare nel vuoto? Se non ti vedo su un tapirulano, entro un minuto, sono cento flessioni. Che cosa? Sta dicendo sul serio? Non è una palestra, ma un campo militare. Ogni volta che mi fai ripetere sono venti flessioni in più. Non c'è bisogno di ripetere. Vado, vado. È quello che volevo sentire. Sono tornata sul tapirulano e mi sono rimessa a correre. La conversazione con Nathaniel continua a farmi riflettere. E i gesti che si sono scambiati con Kim? Dopotutto non sono affari miei. Sono appena tornata in città e devono essere successe diverse cose in questi anni. Dopo aver finito di allenarmi, ho preso la mia roba per tornare a casa. Devo essere in forma e soprattutto concentrata per affrontare tutto quello che mi aspetta. Il concerto di Castielle tra qualche giorno e vai! Sono sicura che le sorprese non sono finite qui. Madonna, non vedo l'ora, non vedo l'ora. Termina l'episodio! Oh, è finito così l'episodio. Pensavo fosse, non lo so, un po' più lungo. Non mi ricordavo finisse così in palestra. Raga, il concerto di Castielle tra pochi giorni, quindi sarà nel capitolo 3. Perché non riesco a ricordarmi, sinceramente? È passato un bel po' di tempo da quando, insomma, ho iniziato l'università con Nathaniel. Quindi non mi ricordo se Castielle sarà al 3 o al quarto capitolo. Io spero al 3, così subito lo vedo che non vedo l'ora. Ok, fatemi sapere cosa ne avete pensato giù nei commenti. A me fa un po' strano che non sia Nathaniel il mio flirt. Però, vabbè, ormai mi ero tipo abituata. E ok, non vedo l'ora ovviamente di andare avanti perché, come sapete, io amo alla follia dolce flirt. Vabbè, è il gioco del mio cuore. Ok, se questo video e il gioco vi piacciono, mi raccomando, non dimenticatevi di lasciarmi un bel like. Se non siete iscritti vi ricordo di farlo, così non vi perderete i prossimi video. E noi ci vediamo in un prossimo gioco. Ciao!